Jed McKenna La via d'uscita dalle illusioni coincide con la via d'accesso nella lucidità. Dimorare nella vacuità è come un salto in caduta libera, nello spazio dell'assoluto. Il mondo della relatività, tutti i tuoi punti di riferimento, tutti gli attaccamenti ai tuoi sogni e alle tue illusioni vengono disfatti. Si tratta soltanto di sbloccare quella porta. E se tu hai un milione di chiavi, libri, tecniche, terapie, maestri, scuole, tradizioni, ma nessuna di quelle chiavi apre quella porta, allora tutte quelle chiavi sono completamente inutili. Se invece il tuo obiettivo è startene comodamente dove ti trovi ora di arredare, allargare, abbellire la tua prigione con gingilli spirituali, allora quelle chiavi fanno il tuo caso. La droga di quasi tutti i ricercatori spirituali è il più. Più tecniche, più nozioni, più conoscenze, più tradizioni, più iniziazioni, più mantra, più devozione, più concentrazione, più disciplina, più yoga, più meriti, più esperienze paranormali, più karma positivo. Il risultato, ovviamente, è un maggior materialismo spirituale, consumismo esoterico, marketing new age. Un accumulo di tecniche, conoscenze, attività, con cui evitano di fare l'unica cosa che vale la pena fare. Realizzare che non c'è bisogno di fare tutta quella roba. Realizzare che non c'è da andare da nessuna parte, poiché tutto avviene qui. Realizzare che la fine coincide con l'inizio. Non importa quanti viaggi esteriori, interiori, metafisici, farete, alla fine sarete sempre qui, dove siete stati fin dall'inizio. Il mondo, il cervello, il corpo è nel sogno. Il sogno è nella mente. Il mondo, il cervello, il corpo è nella mente. Quello che produce inutile sofferenza non è l'impermanenza, l'insignificanza, la futilità dei sogni, ma il non riconoscimento o la negazione della futilità, insignificanza e impermanenza del mondo dei sogni, tra cui rientra il mondo di tutti i giorni. Futilità, insignificanza e impermanenza rappresentano l'insegna, invisibile, prima dell'ingresso in qualsiasi sogno e ovviamente dovrebbero rappresentare anche l'insegna di questo mondo. Il mondo è all'insegna della futilità, dell'insignificanza e dell'impermanenza. Peccato che la mente umana, prima di fare ingresso in questo mondo, si sia dimenticata di leggere l'insegna. Futilità, insignificanza e impermanenza. Puoi continuare a scavare e scavare alla ricerca di qualcosa che non sia effimero, fugace, inconsistente. Cioè, alla ricerca di qualcosa che non sia niente. Puoi ricercare questo qualcosa di speciale o di non effimero, nel prossimo desiderio, la prossima sensazione. Il prossimo pensiero, la prossima relazione, la prossima esperienza, ma la prossima esperienza. La prossima relazione, la prossima sensazione continuerà ad essere un qualcosa di impermanente, effimero, destinato a svanire. Quella prossima situazione continuerà ad essere niente. Qualunque cosa, se la guarderai in profondità, si mostrerà come un niente di che. La prossima cosa, azione, relazione, sensazione, non sarà niente. L'attuale cosa, azione, relazione, sensazione, non è niente. La precedente cosa, azione, relazione, sensazione, non era niente. Non è un fare, ma un permettere. Ogni volta che permetto al flusso di fluire, esso si dispiega perfettamente. Ed ogni volta che glielo permetto, lo fa meglio di come avrei potuto fare io. Non guardare il passato. Non guardarti indietro. Perché guardare dietro se puoi tranquillamente fidarti del processo che è in atto nel presente? Guarda soltanto il grande schema. Guarda le configurazioni. Ti basta questo.